Il surgelato arriva in queste casse qua, ovviamente la spedizione è veloce, 2 barra 3 giorni massimo Stiamo parlando sempre di Prozis, il codice è sempre Alice Pizza 10, svuoto e vi faccio vedere che cosa ho preso E dentro il surgelato usano il ghiaccio secco, che qua è mezzo vuoto ma c'è ancora, quindi tutto a posto Ah, purtroppo sulle isole non spediscono perché non ce la fanno, non ce la fanno Gelati, questa volta la mela, non ho preso quello a strati perché ancora non l'avevo assaggiato quando ho fatto l'ordine Un sacco di piatti pronti, di questo so che me ne pentirò probabilmente la bolognese, poi questo piatto sudoafricano Un piatto inglese e robe proteiche, ben due, questa cosa è maiale e questo a me era piaciuto, quindi l'ho ripreso Mac and cheese però col chili stavolta Pollo al pesto con la pasta, forse me ne pentirò ma sono curiosa Questo è chili però è vegano con il riso e poi queste sono le polpette Ho preso gli edamame che sono sempre utili, una pizza proteica, penso tonno e spinaci Un burrito con le uova visto che era buonissimo e poi ho queste due cose che mi intrigano Hamburger già fatti, bacon and cheese e questo con i funghi A parte la pizza e il gelato, tutto si prepara al microonde, 5 minuti e mangiamo Metto via e torno ad allenarmi Ho le capiglieri addosso come Goku Grazie a tutti